Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Come potete vedere sono vestita con la tuta perché oggi mi voglio allenare insieme a voi. Allora, io praticamente inizio con usare il nastro, poi farò un po' di ginnastica, capiole, non so, qualcosa. Tenete presente che per un lungo periodo io sono stata ferma, quindi molto probabilmente non renderò come al solito, però ho deciso di riprendere comunque ad allenarmi, quindi iniziamo. Grazie a tutti. Spero che il video vi aiuto, scusate per il disordine, ma quando mi alleno praticamente ho bisogno di proteggere in un certo senso il divano e il poltrono, quindi ci ho messo. Avete visto praticamente perché mi stavo esercitando anche con pennelli. E quindi ci rivediamo al prossimo video! Grazie a tutti! Grazie a tutti!